Quindi non ti è piaciuto oggi? No, non ha convinto, non c'è ancora veramente la mano di Conte chiaramente, non lo so, può essere ascritto anche all'assenza di un equilibratore come lo vodka però, però sai A Empoli non è facile per nessuno, lo dimostra il pareggio della Juve l'unica partita vera dove la Juve ha sofferto in campionato perché di fatto comunque l'Empoli ha avuto... L'Empoli tra l'altro è una delle squadre che subisce meno ti importa infatti ha preso un tiro nello specchio contro il Napoli contro quattro effettuati devo dire che la mano di Conte si vede nella capacità di soffrire cioè questa squadra comunque è una squadra che ha determinazione, ha voglia ha voglia di non prendere gol, sta mettendo a posto la fase difensiva e questo comunque è una base sulla quale partire poi, che non ci sia una squadra dominante in tutto il campionato è vero, sono squadre quest'anno che sta mangiando la regina Mi chiedo interventi brevi perché c'è sempre la partita In Napoli l'ho guardato tutto oggi Sì scusate perché Turam e Mkhitaryan si lanciano verso l'area di rigore della Roma ora Lautaro all'indietro per Turam il tiro Svilar si distende sulla sinistra e devia in angolo primo squillo dell'Inter dopo 5 minuti e mezzo di gioco bella azione ancora dell'Inter che prima si era sviluppata a sinistra stavolta invece centralmente un 1-2 con Mkhitaryan l'ex, uno degli ex della partita Lautaro all'indietro, bella sponda per Turam che carica il sinistro ma si fa trovare pronto Svilar distendendosi proprio sulla sua sinistra con tutte e due le mani la devia in calcio d'angolo quindi corner per l'Inter Turam e Lautaro che si danno il 5 proveranno a essere più pericolosi adesso oggi ha segnato Reteghi quindi Turam è a 7 gol Reteghi a 8 deve rispondere come diceva il buon Luigi Necco Napoli chiama Milano risponde qui deve rispondere Turam a Reteghi attenzione calcio d'angolo battuto con Di Marco lo batte corto palla in area di rigore Svilar ancora una volta provvidenziale su Mkhitaryan che si stava inserendo ma c'è una posizione di offside infatti la palla messa in mezzo era arrivata un giocatore dell'Inter che era oltre la linea ora ce lo fanno rivedere vediamo Di Marco Mkhitaryan si è oltre di poco ma era oltre spalla ci sarebbe stato anche un bar la famosa spalla ti ho visto dispiacuto no abbiamo fatto una bella azione contro quello che dicevi tu prima che la porta non la centrava nessuno mi sembra che hanno se l'Inter gioca così ha avuto un bel approccio devo dire che palla per terra siamo molto bravi credo che la partita stasera possa essere disputata in maniera ottima no però abbiamo preso l'approccio della gara è molto positivo da parte dell'Inter quando gioca l'Inter attenzione ancora Turam e Barella che si accendono sulla destra Barella va a contrastare indica che si rifugia in fallo laterale in zona d'attacco siamo vicino alla bandierina 7 minuti di gioco ovviamente sempre 0-0 l'Inter deve rispondere però ti posso dire una cosa oggi che ho visto la partita Napoli mi è piaciuto 0-0 però noi ne parliamo adesso vediamo un attimo vediamo la Roma in attacco la Roma con Di Balla che la mette in mezzo si affaccia nell'area di rigore dell'Inter la Roma con Dobbic che però torna indietro ora c'è Pellegrini che tiene il pallone Barella protesta ma l'arbitro fa proseguire l'arbitro Massa ancora la Roma che entra in area da destra Sommer che gli si lascia sfuggire il pallone che va a finire sul palo e poi ritorna tra le sue braccia fortunato in questo caso Jan Sommer ricordo un po' per chi ha qualche anno in più Pagliuca Pagliuca Pasadina nella finale vi ricordate che mi andò a baciare il palo io sono abbastanza vecchio mi ricordano sa tutto vorrei una memoria qua il cross innocuo devo dire però Sommer rivolto verso la porta se la lascia sfuggire palla sul palo e ritorna da lui è come se gli fosse sfuggito il figlio dell'asile però volevo dire una cosa parlavamo prima di padrona del campionato piuttosto che che non c'è però se non dovesse fare il risultato pieno l'Inter diventa anche una questione di numeri molto importante perché sarebbero più tre sulla seconda già quindi a livello numerico c'è la padrona del campionato ha avuto anche un calendario molto sentato con tre punti poi rivedremo più tardi abbiamo detto poi il Napoli adesso inizia un filotto di partita importante con tre punti però a livello numerico c'è la padrona se stasera l'Inter non vince allora andiamo avanti con la cronaca dai abbiamo ancora tre minuti prima del break pubblicitario siamo nel dodicesimo minuto poi per seguire anche il vostro discorso c'è Inter-Juventus e Napoli-Lecce nella prossima quindi a maggior ragione credo che l'Inter sia attenzione perché c'è già una sostituzione nell'Inter sta entrando frattesi quindi problemi per Cialanoglu e questa è una notizia che non ci voleva per l'Inter c'è chi gioca a play adesso perché allora Aslani che è il sostituto naturale si è fatto male ieri ha preso una botta niente di grave ma non c'è quindi frattesi con Berenbrook che è stato aggregato anche dalla primavera e si è sentito tirare un po' all'interno della coscia si è toccato all'interno della coscia quindi da capire adesso perché ha giocato in questi casi tecnicamente così c'è stiramento cos'è? dipende tu che sei un allenatore dipende dal grado della lesione dei presenti intellettuali no dipende dal grado dell'esempio mai usano non usano più stiramento lo sa beh allora potrebbe essere voglio dire tu puoi sentire una potrebbe essere attenzione che si distende in avanti molto bene con Turam subito in entrato frattesi attenzione Turam uno contro uno Turam sul sinistro del tiro deviato da Ndica molto bravo a chiudere lo spazio ma ancora Inter in avanti con Lautaro Michitalian che tira dalla lunga distanza traversa esterna e palla sul fondo grande tiro di Michitalian che prova dritto per dritto ad andare direttamente in porta gli hanno chiesto spesso di tirare di più lo fa e per poco non fa un grande gol dalla lunga distanza il collo pieno centrale palla sulla traversa però posso dire che Turam ha peccato di egoismo perché c'era Lautaro solo stava appoggiando la palla capisco che gli attaccanti quando sono davanti alla porta non guardano però un po' bisogna guardare e bisogna vedere chi è messo meglio di noi e basta un passaggino il gol è fatto no che dici ma tu dici in questo caso Michitalian? no non ho niente prima ah Teoram secondo me ha perso il tempo da che c'è la Roma in attacco vai con la Corona andiamo con la Corona calcio di punizione per la Roma sulla tre quarti per un fallo subito da Tibala adesso sarà Barella a fare il regista con Michitalian che resta sul centro-sinistra ma anche lui spesso in regia con Frattesi che invece fa il Barella c'è il centrocampista più deputato ad andare negli inserimenti in avanti l'abbiamo già visto prima accompagnare Turam in effetti poteva passare la palla invece è stato è stato egoista in quella situazione poi se salti l'uomo e segni va bene se sbagli hai torto Roma Inter 0-0 21 minuti 30 secondi altra ripartenza dell'Inter la Roma con Juric che di solito aggredisce come spiegava prima bene Marco Varaldi però spesso ci ha rimesso le penne facendo questo tipo di aggressione e quindi vedo i giocatori della Roma che ci provano però tutte le volte che vanno a pressare alto insieme l'Inter ha più facilità a ripartire quindi non so se continueranno a farlo ora per esempio questa ripartenza dell'Inter era andata in superiorità numerica con Barella Turam dall'altra parte Mkhitaryan che non ha avuto un controllo felice ora Svilar può rimettere il pallone in gioco palla lunga su Dobbic è stato in dubbio fino a due giorni fa si era allenato a parte non era tornato nelle migliori condizioni per un'infiammazione l'attaccante ucraino pausa delle nazionali insomma che ha visto tanti reduci e feriti come purtroppo spesso capita in questi casi alla fine però ha voluto esserci a tutti i costi e quindi guida l'attacco della Roma con Di Bala altro giocatore che gioca a titolare dopo un lungo periodo ora Zalewski che era da Anghelinio sulla sinistra arriva Forte Frattesi che la devia in calcio d'angolo quindi calcio d'angolo per la Roma che si riaffaccia dalle parti di Sommer corner alla destra del portiere con Anghelinio in una delle sue incursioni va di spalla Forte Frattesi che poi con il tacco la devia Frattesi che è cresciuto nella Roma Roma che ha provato a riportarlo anche a casa più volte ma poi l'Inter l'ha spuntata è una questione che ho in attesa del calcio d'angolo che c'è una sua probabilità dell'Inter ma che è una partita aperta sì perché perché l'uscita di Cialanoglu ha complicato un po' i piani vediamo il calcio d'angolo della Roma calcio d'angolo calcio d'angolo dicevo la destra di Sommer lo batterà Pellegrini ma c'è sempre anche Di Bala i due che vanno sempre sulle palle inattive vediamo se Pellegrini la dà corta Di Bala così sarà si infatti Di Bala se la porta sul sinistro il crotti Di Bala attenzione in area di rigore indica Di testa alto pallone alto ma di testa sono sempre molto temibili anche l'anno scorso fu una partita con un gol di testa di Mancini poi la Roma fece una delle migliori partite almeno il primo tempo con De Rossi che era arrivato da poco 2-1 poi l'Inter la ribalta 2-4 nel secondo tempo con un Turam scatenato vediamo se ancora Turam quando vede Roma di solito segna anche col Borussia anche in Gladbach vediamo se stasera conferma questa tradizione Michi Tarjan possesso palla dell'Inter Sommer Inter che riparte dalle retrovie anche un po' lentamente perché la Roma va alta ora anche con Conè Cristante anche i centrocampisti accompagnano allora l'Inter non vuole prendersi troppi rischi e torna da Sommer ora giropalla in orizzontale con Pavard ancora passaggio all'indietro tenuta gialla per il portiere svizzero che ha lasciato la nazionale ora Barella ancora Sommer attenzione Sommer che sul pressing di Pellegrini prende iniziativa e poi lancia di sinistro per Turam potrebbe essere un uno contro uno ma è un po' troppo lungo questo pallone è interessante chiude molto bene Celic con una diagonale molto bravo qui il giocatore esterno stavo notando una cosa stavo notando non so se Michele l'ha visto siamo appena al 24esimo e si sta scaldando anche De Vrij non vorrei che uno dei tre dietro avesse dei problemi perché è strano che mandi un giocatore al 25esimo a scaldarsi però tu dicevi prima dell'assetto tattico che cambia con l'ingresso di Trattesi al posto di Cialanogo e si perché comunque Cialanogo lo sappiamo l'importanza del Turco nello scacchiere di Inzaghi questa sostituzione dopo dieci minuti non so se ha sbilanciato un po' le cose ma l'Inter deve ancora trovare ancora Inter con Bastoni che si propone a sinistra bellissima giocata di Bastoni che supera in dribbling come se fosse un attaccante l'avversario ora di Marco il cross Mancini respinge un pallone molto interessante in mezzo ragione Riccardo quando dice che a centrocampo insomma i piani saltano un po' quando devi spostare Barella perché qui Barella non può più fare quella che è la sua caratteristica principale il tunnel era addirittura a Dybala Bastoni un tunnel a Dybala però la notizia infatti ce la fanno rivedere di nuovo sì forse non è passata proprio sotto le gambe un elastico diciamo più che un tunnel però è stata veramente una grande però Dybala notoriamente non è un interditore no dico Dybala non è un interditore ma io ho letto oggi da qualche parte che Inzaghi dice la coperta a centrocampo è corta proprio a Cerbi come diceva Riccardo che si tocca la coscia sinistra vuole provare insomma a vedere ma già sta provando da qualche minuto adesso non vuole prendersi i rischi sta parlando con Lautaro aspetta aspetta dici alla panchina eh qua però sei sempre lì che se ti prendi il rischio poi ti se per esempio fino adesso sei al limite poi ci giochi sopra e veramente ti rischi lo stiramento cioè permette l'Inter parte sempre dal basso vuole attrarre la Roma per poi verticalizzare senza Cialanoglu fai fatica a impostare la verità è questa quindi diciamo la prima pressione adesso c'è Barella sì no però adesso ha spostato Mkhitaryan sì sì ma tu puoi tirare chi vuoi ai Borrelli la Roma che avanza sul tre quarti anche con Mancini avanzano anche i difensori ora Di Balla nella classica mattonella di destra per accentrarsi sul sinistro poi cede a Mancini per crossare il cross è respinto di testa da Barella ora Turam prova a ripartire viene atterrato dice palla massa e quindi si continua Anghelinio da sinistra attenzione è pericoloso la dà Di Balla Di Balla entra in aria se la porta sul sinistro se la lungo un po' troppo e quindi Sommer può accartorciarsi e prendere questo pallone qua Di Balla ha rischiato di superarne due in un colpo solo stiamo rivedendo prima però una maglia tirata di Cristante al centro campo poi gli prende pure il braccio vediamo come finisce insomma vanno tutti e due a terra l'arbitro ha lasciato proseguire qui Pavare e De Vrai meno male De Vrai bravo De Vrai De Vrai l'ha toccata quel tanto che basta e qua mi ha ricordato un gol dell'Inter subito che Riccardo forse ricorderà in un derby con Leao c'era proprio De Vrai lì con bastoni due che si mettono uno dietro l'altro con un gioco di gambe di questo tipo rischi tanto bravo qua però De Vrai a toccare la palla e a non permettere a Di Balla di arrivare davanti a Sommer Roma che però in effetti adesso per acerbi parlano di contratture e flessore della coscia sono tutti infortuni che non permettono di avere questi giocatori per il big match con la Juve eh sì ti confermo anche il messaggio insomma ufficiale la contrattura e i flessori della coscia sinistra bisogna capire adesso se scrivono contrattura in attesa degli esami in attesa di perché comunque fanno esami domani troppo bello se ogni volta che la coscia è solo contrattura è solo contrattura speriamo insomma però la contrattura gli avresti potresti avere però la contrattura non la risolvi una settimana c'è la Roma in attacco scusate Roma in attacco che veramente sta salendo pericolosamente ovviamente per l'Inter con Di Balla con E che scambia corto il passaggio e quindi l'Inter può ripartire con Mkhitaryan e Lautaro c'è tanto campo ma uno contro tre e allora arrivano anche Turam e Mkhitaryan a dare una mano Turam lanciato nello spazio Cristante più lento di lui Turam viene atterrato attenzione vediamo Massa cosa decide dice di alzarsi a Turam che guarda l'arbitro con una richiesta vediamo qua la Roma riparte vediamo se interviene qualcuno qualcuno da Lissone per esempio Di Bello non mi sembrava che Turam si dovesse lasciar cadere così facilmente da solo avanti alla porta però vedremo dopo Di Balla palla al centro Dobbic di testa palla che esce sul fondo ecco qua per esempio vediamo le immagini dai prima di fare commenti vediamo se ce le vanno rivedere allora no fanno rivedere il cross adesso quindi l'occasione di eh qua era scivolato Pavard su Dobbic lo teneva ecco eccola qua allora 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 lo stringono in mezzo in due no è come quello di ieri di Renders è un po' vabbè forse qualcosa in più di Renders lo tocca lo sbilancia però secondo me non è fallo comunque fuori apri tutto fuori ragazzi ma lo sport di contatto è il calcio no no adesso io non vi ho condizionato ogni volta che c'è un tocca è sempre un fallo che fa come quello di Renders allora io guardo le volte delle immagini partite dieci anni fa che si menavano come fabbri sì ma non ho detto ed era calcio cioè adesso è uno dei temi di cui stiamo discutendo questa assieme l'ho detto fin dall'inizio o chiariamo bene un principio generale se no su ogni episodio facciamo ma noi non siamo noi che dobbiamo chiarire deve chiarirlo Rocchi è che Rocchi che lo deve chiarire perché vedi che poi alla fine lui perché ma lui sai perché dice questo perché dice ma alla fine non è uguale non è uguale non è uguale infatti che è fuori dall'area quindi infatti sarebbe stato rosso nel caso di fallo lo diceva adesso anche il moviolista di chi sta seguendo la partita che ha i diritti per mostrare la partita perché c'è un tocco anche sulla gamba di Turam Cristante non prende il pallone Turam è in anticipo però è un tipo di contatto che si lascia all'interpretazione dell'articolo però ha rischiato tanto Cristante ha rischiato secondo me adesso però faccio io il superlissone non c'era rigore non stiamo parlando di rigore non stiamo parlando di rigore perché è fuori dall'area stiamo parlando di cartellino rosso di fallo di fallo di fallo da Uta è una chiara occasione da gol e avanti la Roma l'Inter Inter che recupera palla centrocampo con Darmian ora Frattesi che va sulla linea ma la palla esce quindi linea del fallo laterale superata Frattesi che si dispera dicendo no 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 ma evidentemente l'assistente Carbone e Peretti due assistenti di massa hanno visto la palla oltre vediamola ma da qui è difficile capire comunque fallo laterale per la Roma non c'è il VAR per i falli laterali ma ci danno l'ha chiamato Juric vuol fare il fallo laterale l'ha chiamato Juric sì che si gira molto bene allarga a sinistra per Zalewski c'è Darmian su di lui ma Zalewski può crossare infatti lo fa attenzione il colpo di testa ancora Dobrik palla che resta lì di bala ancora di testa poi bastoni di testa alleggerisce per Sommer pericolo scampato per l'Inter che sta avendo qualche problemino in più di fluidità per il cambio diciamo Barella al posto di Cialanoglu non che Barella non sia un giocatore forte ma in quel ruolo non può spingionare la sua energia a tutto campo è frattese al posto di Cialanoglu sì no però Barella è nella posizione dista è frattese far Barella perché Barella ha quella qualità di andare a fare il raddoppio ovunque se invece giochi dove gioca Cialanoglu devi più essere posizionale è giusto assolutamente sì di occupare più delle coperture io vi ho detto che ti porteranno tutti quanti con un pulmino che parte da Sago il problema è che nella sfortuna ci vediamo da Cialanoglu nella sfortuna tu hai fuori anche Zelinski-Atlani che sono due cambi che possono dare a Barella questo ho detto la coperta è corta però sono tre centrocampi vai con la cronaca Dica per Svilar Turama va in pressing attenzione Svilar rilancio molto lungo a cercare ancora Dobbic palla spesso su Dobbic De Vrij si deve attaccare attenzione di palla per Pellegrini Pellegrini uno contro uno salta Pavara Pellegrini carica il destro Sommer respinge la palla va in fallo laterale 40 minuti 0-0 rischio per l'Inter Pellegrini bravo qua e poi il tiro da fuori Sommer respinge non era proprio imparabile infatti è andato con tutte e due le mani però far tirare da quella posizione è un pericolo sicuramente quindi Roma che ancora si rende pericolosa ora con Angeligno che avanza tiri in porta 2-1 quindi siamo comunque al primo tiro vero nello specchio ancora Roma che ora fa girare la palla con Cristante Indicà e Mancini ora sulla destra per Di Balla che viene sempre molto basso a far partire l'azione ne supera uno poi sta per perdere il pallone ma molto bravo da terra a tenere il possesso poi arriva Barella anzi Mkhitaryan che lo falcia Di Balla si rialza l'arbitro lascia proseguire perché la palla è giallorossa ancora con Indicà avanza Cristante Indicà Inter tutta dietro la linea della palla ancora Roma ora il pressing accennato da Lautaro ma ancora la Roma che va a sinistra l'Inter che con Pava recupera palla ora Barella in mezzo a due la perde ingenuamente e meno male che c'è Darmian c'è un giocatore della Roma a terra Duram perde pure lui palla per un passaggio sbagliato la Roma non si ferma c'è Zaleschi a terra continua ora vediamo se si avvedono del compagno a terra Cristante finalmente si decide di attivare fuori Zaleschi dolorante a terra quando mancano tre minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo vediamo lì che cosa è successo prima il pallo magari a palla lontana c'è Darmian che gli dà una ginocchiata da dietro e quindi dolorante il polacco prima ci fanno vedere anche il fallo di Mkhitaryan su Dybala ha dato il vantaggio però lì insomma era un brutto intervento in ritardo dell'Armeno ora invece ci fanno vedere insomma tutti i contrasti perché il gioco è fermo quindi De Vrijchi si era attaccato a Dovic molto bravo a fare la sponda e infine ci fanno rivedere il tiro in porta con Pellegrini che si libera al tiro con Pavarra ancora non attaccatissimo all'uomo poi Darmian prova a chiudere forse la sfiora anche ma Sommer si fa trovare pronto è lo meglio oramai del nostro campionato con questi due grandi squadre del nostro campionato si gioca poco molti falli molti frammenti la qualità secondo me la qualità di questo primo tempo conferma la bassa qualità delle gare di ieri poi uno si emoziona si fa prendere c'è la passione c'è il risultato però se tu ci pensi qui da Roma ho fatto il primo tiro il quarantesimo un po' cioè il quarantesimo e non vedi qualità cioè non c'è non c'è qualità non c'è soprattutto qualità offensiva propositiva poi va bene sta in invidico le gare però secondo me non è stato un gran primo tempo a mio avviso sono d'accordo e facciamo un po' un giro di tavola visto che il gioco è fermo cominciamo da te insomma come toni iconistici è un buon livello come toni qualitativi di gioco assolutamente no tranne i primi dieci minuti dell'intero a livello di non è d'accordo sono d'accordo con Marco sono molto più vicino poi ti faccio parlare scusa finiamo l'attimo con la partita manca un minuto e mezzo solo un minuto alla fine poi vedremo se ci sarà il recupero del recupero per questo tempo che si è perso per Bastoni che intanto si è rialzato la palla è della Roma nella metà campo dell'Inter ma siamo più vicini al centrocampo che all'area di rigore dell'Inter anzi si torna proprio indietro d'Andicà pressing di Turam e Lautaro con Cristante però qui molto bravo a far passare questo valore in mezzo ai due attaccanti dell'Inter e quindi Di Bala che fa praticamente il regista a tutto campo della squadra allarga per Angeligno il sinistro di Angeligno il cross pericoloso salta su Di Marco Dolvik credo no non era lui comunque il colpo di testa di Celic che però non prende la porta palla che sfila fuori Angeligno ancora una volta un giocatore che può far partire qualcosa di interessante da quella fascia qui il mismatch anche di altezza tra Celic e Di Marco è evidente quindi Di Marco ha provato un po' stacolare il giocatore turco ma il colpo di testa è stato lo stesso del giocatore della Roma che però non è riuscito a dare forza a questo pallone stanno per scadere i tre minuti di gioco Somme rinvia vediamo se l'arbitro vuole prolungare discrezionalmente in questo caso ovviamente recupero del recupero che si può dare mette il fischietto in bocca a massa e dice no magari recupero dopo il primo tempo per il primo tempo va già bene così quindi finisce 0 a 0 il primo tempo all'Olimpico sono d'accordo con voi un po' deludente rispetto sempre anche alle aspettative alle squadre e anche alla storia di questa partita Inter che ha fatto il suo nella prima parte poi è andata un po' spegnendosi anche secondo me non casualmente perché a Serbia e a Cianoglu per l'Inter sono due riferimenti scusate questa è la classifica a Vulsa giusto? o quella di Reale di oggi che se è a Vulsa bisogna mettere un punto per uno o no? è a Vulsa o è con Vulsa? l'Inter è a 14 prima della partita manca di punto se è a Vulsa dobbiamo mettere un punto per uno quindi l'Inter è un giusto quindi è a convulsa va bene e vedete come sono sensibili alla classifica a Vulsa chiudo le testo attento attento alla classifica a Vulsa e con Vulsa perché non hai d'accordo mentre tu metti Borrelli io non so io non so adesso voi magari tu e Paolo siete due esteti anche al Torino e quindi essendo due esteti non so non so come valutate la qualità la bellezza nel senso cos'è che vi diverte a me personalmente ha divertito questo primo tempo sì va bene non ci sono state 20 occasioni a testa però secondo me anche a livello proprio strategico mi è piaciuto come i due allenatori hanno combinato le due squadre soprattutto e non ho visto una Roma perdente non ho visto una Roma deludente ho visto una Roma che pian piano è venuta fuori l'Inter chiaramente penalizzata dalle due uscite di quei due giocatori lì perché sono due giocatori importanti uno per il reparto difensivo uno per la regia generale però personalmente non la ritengo una partita di basso livello usato ci stiamo avituando al basso il mondo è bello perché va l'Inter secondo me l'Inter ha provato a fare la partita di più della Roma c'è questo fattore di Cialanoglu perché tu perdi il giocatore che è praticamente il regista della squadra ma sfortuna vuole che tu abbia infortunato anche il suo reale sostituto quindi hai dovuto un po' mischiare il centrocampo io credo che Barella non finirà la partita lì perché comunque non è nelle sue corde però non avere perdere dopo dieci minuti Cialanoglu non avere Aslani che è il suo solturno naturale non avere Zelischi e perdere anche Acerbi un po' ha scombussolato i piani è una partita brutta certo la Roma è una squadra che comunque non è così scarsa da affrontare perché è carichata nell'individualità sto vedendo che Dobbic sta facendo reparto da solo praticamente davanti molto bravo io ho visto un pa se proprio voglio vedere il pelone l'uovo non mi sembra il Pavarda ancora dell'anno scorso ho perso due o tre le palle non brutte questa è la prima analisi il primo giro vediamo gli up and down li fa non lo disturbiamo mentre li fa e poi dopo li commentiamo quindi bisogna stare questa è sempre la discoteca di Bizza di Chiri che c'è io non vado più in discoteca quando avevo i capelli alla sonata quando avevo i capelli mettevo la bandana quando era sempre marto fino alla notte fino alle otto anche gli up and down non sono diciamo a me piace mettere i voti da 0 a 10 però qua siamo tutti intorno 6 intorno al 6 quindi 6 e mezzo per gli up e 5 e mezzo per i down 6 e mezzo allora 6 e mezzo per Turam perché è quello insomma che ha dato la sensazione ma anche a volte più di una sensazione di poter fare male e c'è sempre quella insomma quell'occasione clamorosa in cui Cristante si deve un po' aiutare volontariamente non volontariamente ma lì Turam la velocità di Turam è stata importante 6 e mezzo per Turam poi 6 e mezzo anche a Bastoni che ha insomma fatto il suo perché si sovrappone da quella parte va sempre con personalità dietro non si è rischiato dalla sua parte quindi Bastoni sempre tra i più positivi il terzo faccio veramente fatica a trovarlo perché siamo nella media nella mediocrità potrei dare un 6 e mezzo a Mkhitaryan perché è quello più propositivo dei centrocampisti quindi diamo 6 e mezzo a Mkhitaryan di incoraggiamento perché ha fatto anche quel bel tiro da fuori ecco gli avevamo chiesto di tirare di più e ha tirato bene in quel caso anche se centralmente quindi 6 e mezzo per Turam Bastoni e Mkhitaryan anche per il movimento perfetto dell'Armeno i down allora i down metto Pavar sono d'accordo con Riccardo ma è dall'inizio della stagione che metto Pavar ogni volta mi dispiace confermarlo nei down ma un paio di volte o perché scivola o perché in una delle occasioni della Roma proprio lui di nuovo si è fatto trovare staccato lo dico per te lo dico pure per me e lo diciamo senza malizia quasi drammaticalmente ma consiglio di cambiare siamo in un'epoca molto complicata del politico del politico di corretto non diciamo li mettiamo nei down dopo che qualcuno sente accendere la televisione dice che Bracchino che li mettiamo nei down non capisce il contesto e poi finire ci becchiamo una denuncia o una quale quindi non so chiamiamo la rubrica up and down ma li mettiamo quelli diciamo sotto il 6 gli insufficienti gli insufficienti gli insufficienti gli abbiamo messo palato ma di se li mettiamo negli up succede niente se diciamo che li mettiamo nei down nella nostra epoca sì però non dobbiamo neanche farci fagocitare dal politicamente corretto perché poi è un po' delirante non si può dire più niente infatti non si può dire più niente lo so però bisogna ribellarsi un po' a questa cosa tra gli insufficienti inserisco sempre dalla parte destra la frase che mettiamo nei down è un po' ambigua nella parte destra dicevo ha fatto il suo però secondo me è un po' poco anche dal punto di vista propositivo e non a caso a destra si spinge un po' meno Darmian quindi insieme a Pavard metto anche Darmian 5 e mezzo anche per lui perché la fase diciamo difensiva era ordinata davanti quasi nullo e il terzo inserisco Sommer per quella palla persa 5 e mezzo anche per lui alla fine le parate la parata che doveva fare l'ha fatta però là è un errore che è meno male per lui questi sono i voti i otto promossi e bocciati del nostro cronista di Michele Borrelli lasciamo un attimo questa grafica dividiamo in due se chi è d'accordo o chi non è d'accordo rapidamente io sono d'accordo diciamo che il giù di Sommer salva Lautaro perché secondo me se Sommer non fa quella superficialità che la palla sul palo è anonimo perché non fa niente e secondo me anche Lautaro merita sì no ma però ordinare amministrazione secondo me Lautaro ha ancora bisogno un po' di carburare perché l'avrei messo insieme agli altri 5 e mezzo chi è d'accordo chi non è d'accordo alzi la mano anche io toglierei Sommer e metterei invece Barella perché mi ha deluso Barella nel primo tempo forse anche perché nel momento in cui è uscito Michele si è trovato un po' spaisato ha cambiato il ruolo sì però appunto non è il suo ruolo e quindi secondo me non è il Barella che noi conosciamo quindi io mi avrei messo l'uomo sono abbastanza d'accordo che si poteva mettere Lautaro che però Borrelli è sempre molto attento con Lautaro una certa no? però lo protegge sempre perché poi Lautaro lo va a cercare sotto a casa eh sì sì sa dove abiti Borrelli Lautaro sì sì con Lautaro è sempre hai capito tende sempre al sai politico quando non si può guardare o quando non si vede in campo beh oggi oggi non si è visto beh poi non ha avuto un grande impatto per adesso Frattesi secondo me anche Frattesi non è stato sufficiente però non è che possiamo mettere a delle mille dopo il cambio di Cerenogolo è oggettivamente opaca ma io sono d'accordo tranne Sommer perché comunque è un errore si è anche abbassato un po' sì si è anche abbassato tanto però qui c'è la difesa della categoria Valardi sono un exportiere cioè adesso senti ma come va la tua squadra sono stato generato Claudio è stato in senso una notizia direttore sono stato generato ma è stata colpa nostra che ti hanno visto qui e ha detto tu vai lì ti esoneriamo lo sapevano già in realtà che venivo qua però abbiamo perso due partite poi c'erano qualche problemino diciamo di comunicazione come al interno di comunicazione di comunicazione di problema di comunicazione per me sono direttore di lungo corso interessante come governance per me di comunicazione posso dire conosco conosco dobbiamo trovare una squadra adesso quindi anzi facciamo un appello qui per quelli che guardano dove lavorano in Lombardia o nelle altre regioni allora io sono ancora sotto contratto col Saronno quindi prima devo risolvere devo risolvere se ci sono dei problemi di comunicazione scusa ma se ci sono dei problemi di comunicazione comunico io direttamente col Saronno se ci sono devo dire qualcosa se ci sono ragazzo rapido ma ci sono pagato per dire le cose in breve tempo e anche con violenza dì mi dite lo dico io a Saronno c'è una trattativa contrattuale col Saronno e poi eventualmente o mi prendono del tempo per andare a conversare io quando ero direttore di Sport Medios fece un accordo dove stai più un ragazzo di grande intelligenza Fabio Cannavaro che venne a fare diciamo quell'opinionista nello studio della Champions di Canale 5 ti ricordi? come no? premettendo che se avesse trovato una squadra noi avevamo dei gettori molto più bassi di quelli che davano altri emittenti però lui giustetica siamo Canale 5 grande visibilità poi avevo la squadra e quindi la visibilità gli è servita se la visibilità che ti dà la potente network in tutte le regioni italiane per servire quando è il momento lo dici metti un cartello cerco squadra la comunicazione breve efficace ma ci sono appendati anche della Roma non mi ricordo più solo dell'Inter solo dell'Inter ma la Roma no perché la Roma non mi riguarda però Dobbic secondo me è migliore in campo anche senza scrivere anche Di Bale è salito bene Dobbic è migliore in campo anche Di Bale è stato morto da fare però anche c'è dalla regia non era previsto Max è impegnato quindi il nostro amico Guglielmo Timpano che lavora a Telerato Stadio se lo cercate ci facciamo fare un commento ce lo teniamo poi anche per il secondo tempo della Roma così almeno sentiamo un po' anche il punto di vista della Roma e io però volevo dire una piccola cosa noi ci siamo un esteta del calcio sì è vero e tutto quanto però se vogliamo fare una sintesi da questa partita cosa dovrebbe venire fuori che la Roma si deve riprendere che se non si riprende ora con Napoli a 19 punti se ci ridate la classifica con Vulsa anzi che Vulsa 11 punti va a 8 punti e si avvia a una diciamo così a una vita da mezza classifica il solito anzi peggio dei predecessori per adesso perché se l'obiettivo era di riportarla in Champions esatto stiamo lì però posso dire Claudio che tu hai detto due settimane fa la ricreazione è finita citando un tuo collega ho detto un altro giornalista che non ero io tolta la Fiorentina che comunque si è ripresa bene all'inizio del campionato dove anche le voci di mercato avevano un po' fatto faticare Paladino a trovare la quadra anche l'Atalanta sta tornando sta tornando anche l'Atalanta quindi si sta prendendo la fisionomia che tutti si aspettavano sì ma la Roma se resta a sesto punto è ancora deve essere cioè questi i Fredkin continuano a mangiarsi allenatori e continuano a mancare gli obiettivi che poi vabbè è un obiettivo per tutti comunque sulla Roma stasera nomino solo un gioco a parte Dobic un altro giocatore Di Bala se la sta prendendo proprio sulle spalle cioè gioca tutto campo io ho esteso oltre di 5 minuti la pubblicità chiedo se c'è una necessità di andare o mi prendo un altro minuto fatemi un segno oppure si non ho capito bisogna andare bisogna andare no perché voi siete nel buio c'è il minuto ah c'è il collegamento allora prendiamoci 30 secondi Guglielmo Guglielmo dov'è io forse si è perso nell'elettromagnetismo di Assago se vede che è un punto particolare va bene facciamo così allora prendiamoci ancora 30 secondi veloci per dire queste cose qui però Bordelli questa la chiedo a te sì ma anche se l'int Guglielmo no non c'è la voce lui è per te mettiamo a posto nella pubblicità Guglielmo Timpano di Tele Radio Stereo ma anche se l'int rimane 15 però da 4 punti dal Napoli no? eh no anche perché c'è Inter Juventus e poi c'è Napoli Lecce quindi insomma se l'int Inter avesse vinto a Monza e Genova un pareggio a Roma ci sta anche il problema è aver perso sette punti già nelle prime sette giornate quindi a Roma devi recuperare qualcosa ora l'Inter riparte con Bastoni che prova a andare in avanti visto che è stato molto bravo abbiamo detto nel primo tempo prova anche a fare quello che non stanno facendo gli attaccanti ma ora il passaggio per Di Marco viene fermato da un Di Bala che davvero sta giocando Di Bala è onnipresente in campo a tutto campo a tutto campo Claudio Di Bala veramente generosissimo sta facendo una partita totale ora ancora la Roma con Pellegrini che cerca Dovvic il passaggio non è preciso e allora l'Inter può recuperare palla e ripartire con Barella ora le squadre sembrano un po' lunghe anche se siamo solo all'inizio del secondo tempo vediamo se ci sarà anche più spettacolo Mkhitaryan per Lautaro Lautaro che punta Mancini sulla sinistra c'è tutta la Roma però schierata in difesa allora Lautaro prova a andare in dribbling non ci riesce a saltare l'uomo ma allora torna indietro Inter che mantiene il possesso palla Inzaghi che chiama i suoi attenzioni di Marco per Frattesi che si stava insirendo pericolosamente per la difesa della Roma in area ora Bastoni che recupera palla dice non è fallo non può essere fallo questo ragazzi e ora però Massa fischia la punizione per la Roma Bastoni dice no no Di Bala rimane a gioco l'uomo munisce pure e c'è anche un cartellino giallo dai ragazzi questo mi sembrava proprio palla netta ora protestano tutti arriva anche Barella vediamo un po' il cartellino si è proprio per Barella vediamo se ce lo fanno rivedere perché mi sembrava per proteste Barella però Michele come? per proteste per proteste allora Bastoni arriva questo non è mai fallo no lo prende lo prende la punizione quindi c'è ma no ha preso la palla ragazzi ha preso la palla la palla dai ho capito la palla ma arriva addosso ma Michele ma non è che può scomparire questo non è mai fallo dai ma Barella è per proteste no ma allora il calcio diventa davvero ma Barella comunque per proteste ma dico ma non ci può più essere un contatto un intervento è sempre fallo è chiaro che i corpi i corpi sono vicini quando contendi una palla però cioè se questo ti fa vedere che prende nettamente la palla poi non è che può smaterializzarsi Bastoni però quante volte abbiamo detto che ci sono stati anche cartellini perché si dice tu devi essere prudente cioè imprudenza perché l'ha caduta di Dicare spettacolare ora c'è una punizione qui va munito c'è un altro fallo questa volta su Turam cartellino giallo che Massa indirizza a Cone Cristante Cristante sì no vedevo che era indirizzato verso Cone ma in realtà il cartellino è per Cristante vedevo Turam a terra e quindi Cristante a Monito stavamo dicendo una partita che non aveva visto a Monito e qua diciamo più qui non ci sono dubbi però sì un impatto mi dà un bel calcione no vabbè netto ritardo qua Cristante su Turam lui vuole andare a prendere la palla ma la seconda volta che Cristante cioè stoppa il pallone e lo dà gli altri ok poi dopo è una velocità diversa cronaca cronaca quando Turam va a cercare Cristante insomma è sempre pericoloso per il giallo e rosso perché è una velocità completamente diversa anche se Turam è alto ma è veloce ora punizione per l'Inter sulla tre quarti quinto minuto nel secondo tempo Mkhitaryan che preferisce tenere la palla e quindi scambia con Darmian ora l'Inter che va a destra da Pavara attenzione Pavara contro Zaleschi il cross troppo sul portiere respinge indica di testa e allora la Roma può ripartire con Pellegrini l'Inter che rimane però lì alta a pressare e la Roma quindi va da Angeligno che ha un sinistro molto educato alza la testa e lancia per Dobbic molto bravo a fare la sponda e a far salire la squadra si butta nello spazio Celic a destra avanza con De Vrij che prova a contrastarlo e allora palla Di Bala Di Marco che lo contiene vada con E arriva Turam come una furia gli toglie il pallone può ripartire molto bene qui Turam ora Frattesi partono in due c'è anche Mkhitaryan che accompagna vediamo se l'Inter riesce a fare qualcosa di buono con Lautaro anche a destra scarica su Turam Frattesi uno contro uno con Mancini intanto la Roma però ha recuperato le posizioni avanza anche Barella che può caricare il destro e il tiro fuori ma almeno ci ha provato da lontano c'è un giocatore della Roma per le cliniche qui è andato a terra forse semplicemente per stanchezza per aver dovuto recuperare la posizione comunque ha fatto secondo me bene Barella a provare anche il tiro perché ogni tanto bisogna provare il tiro Primo giro di commenti su questi primi minuti al secondo tempo Chirio ma è ripartita bene di nuovo l'Inter però tornando su prima sulla Roma secondo me è un merito riuscire comunque a contenere una squadra campione d'Italia molto forte in questa partita qui quindi adesso però di nuovo c'è l'Inter che mi sta stupendo mi sta stupendo sempre di più Turam perché è diventato un giocatore completo recupera palla Frattesi contropiede dell'Inter dopo un calcio d'angolo della Roma Frattesi si invola nello spazio si fa tutto il campo c'è Di Marco dall'altra parte alza la testa la dà Lautaro corta arriva Lautaro il destro eccolo lì Lauti del capitano leggerezza della Roma contropiede dell'Inter Frattesi scatenato e poi il gran destro di Lautaro che aggancia una leggenda della storia dell'Azzurra Isfaniers a 133 gol e il quarto stagionale il terzo in campionato Lautaro Martinez il toro di Beia Blanca 1-0 per l'Inter al sessantesimo Inter in vantaggio dopo tante difficoltà in questa partita ancora una volta Frattesi importantissimo ma qua Zalevski sfortunato scivola perde palla prova a tenerla come una piovra in tutti i modi non ci riesce e lì parte il contropiede poi attenzione perché il passaggio di Frattesi non è arrivato a Lautaro ma Celic che prova a chiudere su Lautaro in realtà gli serve il pallone gli lascia lì un cioccolatino da quella posizione Lautaro carica il destro ed è letale c'è un errore grave c'è un errore grave allora insomma ricominciamo facciamo i commenti errore? beh errore va bene hanno preso quella ripartenza quindi erano scoperti però è chiaro che sulla diagonale se Celic arriva in tempo e non gli serve la palla cioè la butta laterale e voglio dire Lautaro non può nemmeno colpire beh nello specifico di Celic comunque allora di Zaleschi quando perde palla perché Zaleschi non c'è fallo perché si lamenta anche di così come si fa a perdere la palla in quel modo? la scopri la scopri non usi il corpo per coprirla è banale a Pisilli la perde più di quello di Celic perde la palla Pisilli e non Zaleschi così io ho visto Zaleschi che ho visto male evidentemente perché Pisilli che scivola e quindi comunque è molto sfortunato però è una sfortuna che porta al gol comunque due errori clamorosi secondo me che lasciano danno il campo all'Inter che come dicevo già nel primo tempo è molto più veloce della Roma quando va in repartenza è molto letale e qui è stata letalissima usato c'è lì uno dei peggiori della difesa me lo consentirà è assurdo se gli lasci il campo ti fa male in qualsiasi situazione bravo Frattesi anche se c'è evidentemente un errore del centrale della Roma perché sbaglia la diagonale di fatto tecnicamente il passaggio Vettesi stava sbagliato esatto però sempre a gradire la palla insomma buona Inter se non dico grande Inter però comunque sta provando c'è la Roma in attacco vai Borrelli la Roma con Di Bala ancora lui va per vie centrali prova a rispondere subito la Roma Michiterian però riesce a recuperare palla protestano per un fallo al limite dell'aria non mi sembrava esserci ora trattenuta di maglia Frattesi che stava ripartendo questo è un giallo tutta la vita infatti arriva il cartellino giallo protesta Pellegrini per la punizione che chiedevano al limite dell'area ora magari ce la fanno rivedere non mi sembrava farlo sull'intervento di Michiterian però lo rivediamo che è meglio protesta qui Pellegrini non per la trattenuta di maglia che era evidente del compagno adesso in mezzo al campo che era adesso ci fanno rivedere palla piena pallanetta però di bala è caduto chiedeva pallo dal limite dell'area noi dobbiamo ragionare un secondo non è che tutta la volta che uno prende la palla se poi travolge gli altri non c'è mai pallo è vero che è uno sport di contatto la palla è una divinità perché se tu prendi la palla lui ti mette una botta in faccia per fare 4 metri no certo insomma qui prende la palla abbiamo assolto però mi sembrava voglio sentire un attimino Guglielmo sulla sua Roma che gol da Polli che avete preso una squadra mediocre sulle fasce Pollo lo spiedo Iulic ti piace? Zaleschi Zaleschi ha perso col pallone vi confermo che era Zaleschi il 59 anche a me sembrava Zaleschi anche a me sembrava Zaleschi Pesilli è un giocatore di calcio scusa un secondo Guglielmo c'è una Roma in attacco no non c'è più la Roma in attacco vai finisci no mi sembra il manifesto programmatico della mediocrità sulle fasce della Roma che ha giocatori che probabilmente neanche il Veona e il Torino di Iulic potevano proporre a questi livelli così infimi ma infatti io sono d'accordo perché mi ha tradito un pochettino quando è intervenuto Michele che ha detto ah no ma dicono Pisilli anche io ho visto Zaleschi infatti stavo per dire i due peggiori di questa formazione sono Zaleschi e Celica hanno fatto gli errori e hanno permesso è tornata una bella partita con la Bologna è tornata una bella partita io non ritengo Zaleschi un grande giocatore vabbè comunque insomma andiamo avanti non dimentichiamo che era stato messo fuori rosa per il discorso del rinnovo e poi forse tra le altre cose che hanno portato di sì di De Rossi società e che De Rossi disse chiedetelo alla società e lui non era stato reintegrato e poi l'hanno reintegrato dell'Inter in avanti vai Inter in avanti ora 64esimo facciamo un po' d'ordine Inter in vantaggio al 60esimo con Lautaro Martinez c'è stato anche un cartellino giallo per Pellegrini ora frattesi per Turam nello spazio attenzione Turam palla sotto per Di Marco che viene anticipato all'ultimo da Celica che quasi fa una grande diagonale dai partiti il 5 con Lica questo è un gol salvato da Celica che si riscatra dopo l'assist involontario all'autaro in occasione del gol ancora Turam qua però forse poteva indirizzare verso la porta sarebbe stato un grandissimo gol con un esterno destro magari morbido invece la mette in mezzo il tocco sotto era defilato non era facile però da un giocatore con la sua classe ci possiamo aspettare anche questo Di Marco poi viene anticipato in grande scivolata da Celica quindi Roma che qui si salva l'Inter negli spazi lo sappiamo è letale però c'è una gran palla di Lautaro bisogna anche dirlo allora e poi si è svegliato Lautaro vediamo il calcio d'angolo dell'Inter intanto il cartellino giallo ci conferma adesso anche la grafica per Pisilli infatti lui aveva tirato la maglia poi se ha morito pure Pellegrini per proteste vi diremo ancora calcio d'angolo per l'Inter con Di Cac che di testa spazza via lontano Mkhitaryan all'indietro per Darmian ora Inter ovviamente in fiducia e Roma che deve rischiare qualcosa in più e riversarsi in avanti lasciando come dicevo prima degli spazi vediamo anche quali saranno le mosse di Juric e Inzaghi con questa nuova situazione ora Di Bala molto bravo a togliere palla non ci sta e gliela devi via in pallo laterale sta facendo secondo me una partita non è possibile però che Di Bala su ogni pallone che arrivo o appena va a contrasto cade ma questa è sempre stata una sua caratteristica però non è normale che un giocatore va a contrasto e cada ogni secondo dai allora Guglielmo Guglielmo dicevi non avete fatto caso a Pellegrini che cade anche quando tira vabbè adesso però ti vedo stasera per la prima volta veramente uuuh Erole dell'Inter e quindi Zaleschi qui si inserisce non rovinare tutto ha rovinato tutto molto bravo ora De Vrij che però non riesce a spazzare e quindi ancora Roma leggerezza dell'Inter ora però Massa ferma il gioco perché ha toccato lui il pallone quindi deve riscodellarlo e Cristante dice perché? stavamo attaccando noi ma cosa fa Cristante? la morosa della Roma riferma l'azione Massa che sta veramente combinando un macello una conclusione totale si arrabbiano tutti i giocatori dell'Inter e i giocatori della Roma possiamo fare queste cose però palle date all'avversario ma è incredibile perché ha sbagliato per l'istante la giocata ha rischiato si vero si ma l'altro ovviamente gliel'ha detto all'ultimo secondo è buona è più a due è palla della Roma ok è palla della Roma che però sbaglia il passaggio Cristiano la mette no ma l'ha sbagliato ha sbagliato il passaggio Marco si ha sbagliato il passaggio ma l'altro glielo dice l'ultimo momento è buona cosa è successo cronista e poi interpretazioni avanti allora c'è stata una palla scodellata dall'arbitro perché aveva insomma deviato la traiettoria di un'azione della Roma che però si stava lamentando in Cristante perché diceva ma la palla ce l'avevamo noi lasciaci giocare dice no no però per correttezza ve la ridò gliela ridà Cristante forse è preso la strombista non l'ha dato non si fischia no no si lascia andare la palla a terra ma Cristante è pressato è stato una Roma in attacco Cristante ha dato la palla all'Inter che stava partendo in controbieto ma l'ho capito ma gliela ha data perché era lì pressato sentiamo cosa sta succedendo cartellino giallo in questo caso per Darmian su Zaleski che evidentemente ha qualcosa da farsi perdonare anche se ripeto è stato molto sfortunato in occasione del gol perché è scivolato male Darmian qua e qui Darmian si fa soffiare il pallone da Zaleski e poi lo butta a terra mentre stava per entrare in area di rigore da sinistra e quindi giallo netto per Darmian così come ricordo Cristante Pisilli e Barella sono gli ammoniti posizione pericolosa un calcio d'angolo corto quando siamo a metà del secondo tempo sessantottesimo minuto quindi vediamo anche adesso potrebbe essere arrivato il momento di giocatori più freschi in tutte e due le squadre la Roma ha fatto un solo cambio Pisilli per Conè ora punizione punizione per la Roma alla destra di Sommer siamo vicinissimi all'area di rigore vediamo se andrà direttamente con una palla tagliatissima verso la porta c'è ovviamente affollamento nell'area piccola parte Pellegrini palla in mezzo respinge Pavarra ancora Roma il tiro di Di Bala deviato in calcio d'angolo e qua il sinistro di Di Bala sempre molto pericoloso deviato palla in angolo la spalla di Pavarra che aveva spazzato e poi ancora si immola il francese anche a lui hanno comunicato il nostro 5 e mezzo adesso si sta rifacendo in questo secondo tema scherzo ovviamente rimane anche a terra per aver preso questa pallonata calcio d'angolo anzi l'ha presa proprio quasi in faccia rivediamo dove andate a finire precisamente no era andata scivolata comunque riuscito a respingerla in qualche modo due volte bravo Pavarra calcio d'angolo per la Roma 24esimo ancora dalla destra di Sommer tutti a saltare con Dobbic che cerca di divincolarsi Darmian che lo tiene non solo lui attenzione palla in mezzo Dobbic di testa fuori pericolo pericolo per l'Inter con Dobbic che riesce alla fine a prendere questo pallone molto bravo nel giocaereo l'ucraino ma la indirizza fuori sul disturbo di Darmian circa 50 giocatori intorno mamma mia qua devrai troppo lontano meno male che Darmian in qualche modo però prima a innescare tutta questa ammagrazione c'è stata una specie di follia di un giocatore dell'Inter esatto è quello che volevo dire la Roma è in attacco seguiamo ancora Roma con Cristante sulla tre quarti ora l'Inter si sta abbassando un po' troppo la Roma generosamente si sta riversando tutto in avanti Pisilli sbaglia quindi Di Marco può rilanciare veloce su Lautaro che va con Dica nel duello indica in netto anticipo addomestica questo pallone senza difficoltà e fa ripartire l'azione della Roma con Di Bala che fa davvero il regista adesso arretrato invece Cristante si sgancia ma torna ancora da Di Bala Di Bala ora serve Pisilli sulla tre quarti va a destra da Celic si sovrappone anche Mancini Celic alza la testa il cross bastoni con tranquillità di testa però dove non c'è nessun giocatore dell'Inter quindi fuori rimessa per ancora la squadra di Juric arrivano i tre cambi come detto Inzaghi non vuole rinunciare i cinque cambi ha un solo slot e quindi li deve fare tutti insieme attenzione perché vedo bastoni che deve uscire per Bissec e non mi sembra proprio una grandissima idea a meno che bastoni non stia al 100% come si diceva in effetti alla vigilia Dunfris per Darmian mi sembra scontato perché è ammonito e anche perché stava abbassando pericolosamente il suo raggio d'azione poi Correa vediamo se esce Lautaro o Turam intanto vi confermo sicuramente Darmian esce Lautaro e quindi Turam sta ancora bene Darmian bastoni e Martinez Lautaro o Martinez Darmian Dunfris bastoni e Bissec Lautaro per Correa Riccardo voleva parlare ho notato e non è la prima volta l'errore di Lautaro Martinez molto grave perché di fatto fa ripartire la Roma si insegnano elementari no Marco mai pallano in orizzontale nella prima età campo sta cambiando un po' il calcio però si è fatto ecco dopodiché c'è un brutto errore anche di Darmian che causa la punizione della Roma e questo non è la prima volta che all'Inter all'Inter succedono cioè degli errori individuali che l'anno scorso non capitavano e questo è costato già dei punti perché vedi Bissec a Genova vedi Cialanoglu però ecco ripeto questa è la differenza l'anno scorso c'era più secondo me io mi voglio fare una domanda in attesa di prendere il gioco se si sviluppa in maniera vai adesso con la grona c'è la Roma davanti non è più Roma davanti intanto l'Inter recupera questo pallone proprio con l'entrato Bissec anche la Roma ha provveduto un cambio Juric con Baldanzi me lo aspettavo sto cambio adesso vi dico al posto di chi è entrato Zeleschi di Zeleschi quindi comunque un cambio coraggioso perché ormai giustamente sta perdendo deve rischiare qualcosa vediamo adesso come si posizioneranno con Correa e Turam quindi due contropiedisti adesso nell'attacco dell'Inter e Dumfries che è un altro che nello spazio si può esaltare quindi scelte secondo me logiche di Zeleschi quella di Bastoni ripeto che era stato tra i migliori va motivata col fatto che già la vigilia si diceva non farà tutta la partita evidentemente dopo le due partite intere con la nazionale non aveva il serbatoio diciamo al massimo e sapete su questo Zeleschi è sempre molto attento quindi Bissec che potrebbe giocare sul centro-sinistra non andare a destra quindi non spostare dall'altra parte Pavard Guglielmo che dici di questa sostituzione è un cambio che cambia diverse posizioni in campo perché Cristante passa nei tre dietro in questo momento va sotto punta Baldanzi quindi va a fare uno di due giocatori dietro Dobbic Pellegrini arretra sulla mediana quindi diciamo che è un cambio ma di fatto tatticamente in campo ne ha cambiati almeno tre cambia tanto e Bagigia e su lei non gioca finché c'è Di Bala e su lei non gioca però su lei in quale ruolo giocherebbe soprattutto col modulo di partenza perché Iuri ci ha detto che lui non lo vede come quinto e ovviamente quando c'è Di Bala gli preferisce Di Bala in quel ruolo lì nei due dietro la punta poi fa la sintesi delle due occasioni ravvicinate dall'Inter allora Roma sta alzando un po' i ritmi però si deve prendere dei rischi se li sta prendendo e quindi l'Inter in contropiede ha veramente tante possibilità come le due ora la palla è fuori possiamo raccontare che ha avuto con Dunfris dicevo la posizione di Cristante sul centro-sinistra in difesa mi sembrava un po' suicida Dunfris che è scappato si è fatto tutto il campo è arrivato in area di rigore ha scoccato questo destro è stato molto bravo svilarla la palla andava proprio nell'angolino alla sua destra ha deviato in angolo poi contropiede dell'Inter con Turam che non ha visto Frattesi che si era proposto dall'altra parte in grande velocità ha voluto fare tutto da solo era stato pure fortunato nel rimpallo ma poi ha consegnato la palla a sbilare e poi il testo istituzione della Roma si è entrato Hermoso per Angeligno Roma prima in avanti con Baldanzi devrai respinge vediamo se Correa fa qualcosa di buono perché si è fatto ammonire ingenuamente è entrato per andare nello spazio ma finora sta giocando più con gli avversari che con l'Inter Roma che ora avanza anche con Hermoso mancano dieci minuti ma l'Inter sta arretrando un po' top il baricentro quindi o fa il 2 a 0 o si rischia ora giropalla della Roma con Pisilli poi vi dico i cambi ora Sule che è uno appunto dei tre cambi con Hermoso e Lefe sono usciti Cristante e Dybala davvero esausti ed è uscito Angeligno quindi soprattutto Lefe e Sule devono andare a dare quella qualità tra le linee sulla tre quarti per provare a scardinare la difesa dell'Inter che però ora ripeto si sta abbassando troppo avanza la Roma c'è tanto campo alle spalle della difesa però se la palla ce l'hanno loro non riusciamo a ripartire attenzione alla Roma ora in area di rigore pericolo il tiro rimpallato ora c'è Dumfries che rinvia però nella terra di nessuno e ora è solo Roma solo Roma sulla tre quarti Inter addirittura con Turamo l'uomo più avanzato Correa si sta schiacciando troppo all'indietro sei un attaccante devi andare a pressare più alto Mancini la Roma con Sule che è entrato da poco Sule avanza sfida Correa e sfida Di Marco supera il primo ora entra in area di rigore pericolosamente Di Marco non lo tiene poi Sule crossa su Sommer che riesce a bloccare facilmente qua Sule sprega un po' ma la partita è ancora lunga soprattutto se l'Inter pensa che sia già finita perché assolutamente non è così non è così Guglielmo e 10 no penso a quel cambio con Cristante messo il braccino braccetto fate voi di difesa per qualche minuto poi è dovuto correre a ripari con Ermoso per il resto mi sembra una partita che rispecchi dei valori di mediocrità che non fanno onore poi ai valori tecnici delle squadre in campo anche l'Inter la sto trovando estremamente imprecisa e volevo ringraziare c'è una roba di attacco aspetta attenzione Pisilli batti e ribatti in area di rigore ora c'è Dunfriss che potrebbe salvare anche dal calcio d'angolo ci riesce ma in fallo laterale e ripeto la Roma sta andando con tantissimi uomini generosamente a ridosso dell'aria e poi anche in area di rigore e se l'Inter si fa schiacciare troppo poi qualcosa può succedere in area attenzione Pavar che spazza via 82 minuti 8 minuti di sofferenza per l'Inter che la può spezzare in un modo facendo un contropiede fatto bene qualitativo io avrei per il tipo di partita che ha fatto Turam poi è chiaro che il mister Inzaghi e ci mancherebbe però avrei tolto Turam e non Lautaro perché mi sembra che Turam sia un po' stanco nel primo tempo ha speso tantissimo Bargigia tu l'avresti tolto Lautaro? sì ci può stare perché secondo me al di là del gol probabilmente non è ancora in condizioni di grande brillantezza e forse non legava molto cioè Turam magari è stanco però è più esplosiva più fisicità è stanco eh lo so però anche Lautaro non era brillante Baraldi no assolutamente io avrei tolto Lautaro perché comunque Turam ha più gamba questo è stato regonerato al Saronno no perché la pensa come me e come Inzaghi perché comunque ha toccato un pallone Lautaro ha fatto gol vero però Turam ha molta più gamba però ha 60 minuti nelle gambe molto dispendiosi secondo me perché nel primo tempo è andato molto io voglio portarvi una sorta di principio Chico tu avresti spedito Turam? no no ah no Guglielmo tu l'avessi sostituito anche se sei dall'altra parte della barricata? no ma io infatti volevo ringraziare pubblicamente Simone Inzaghi perché credo stia facendo di tutto per rendere la partita equilibrata a un certo punto visto tra i bisse che insieme correa e ho pensato come quando al campetto mischi le squadre perché è troppo sproporzionata allora io trovo c'è la Roma in avanti vai facciamo la cronaca dai ancora Roma in avanti che pende molto adesso a destra dalle parti di Sule Bissec che prova a conquistare palla non ci riesce ma c'è Mkhitaryan che si appoggia su Turam riparte l'Inter lasciano la palla Barella alla Roma e qua Barella deve mettere un po' più la testa su questo finale di gara perché non deve andare in avanti scriteriatamente ma deve tenere la posizione Di Marco c'è campo la Roma è sbilanciata e allora Di Marco prova a attaccare l'area di rigore da sinistra alza la testa la dà a destra per Dunfris che guadagna la posizione e il tiro la parata di Svilar che chiude molto bene ancora su Dunfris grande inserimento ancora dell'olandese l'olandese volante 8 minimo molto bravo Svilar sì ancora una volta a tenere la Roma in partita bravo anche Di Marco a vedere con la cosa dell'occhio dall'altra parte Dunfris ora la Roma che se ne va il potere lo chiede dall'altra parte Baldanzi chi è quello lì? comunque c'è ancora partita e merito di Svilar perché ne ha fatto Svilar la tenuta ancora aperta la Roma la Roma in avanti diceva giustamente Marcello citava Baldanzi che si è visto poco però è un altro giocatore che può inventare qualsiasi cosa da un momento all'altro quindi attenzione alla classe di Baldanzi ma anche di Sule l'Inter che ora recupera palla deve andare con qualità nella ripartenza c'è Correa c'è anche Turam al centro vediamo Correa stavolta che cosa decide punta l'uomo se ne va sulla sinistra potrebbe andare in area di rigore invece torna indietro timido però Inter che tiene palla con Mkhitaryan e Turam arriva anche Frattesi Dunfris in appoggio Turam si gira intorno a se stesso e poi cede a Dunfris si potrebbe fare anche se la riusciamo a tenere in modo prolungato con Frattesi che torna indietro non la perdiamo però bravo da De Vrij un po' di possesso palla un po' di respiro dopo dieci minuti in apnea per l'Inter ancora Bissek ora per Correa vediamo se si ricorda ancora come si fa un dribbling la dà Di Marco troppo forte riesce a svilare nessun problema per il portiere della Roma ingresso negativo secondo me per Correa io non ho capito perché l'ha messo torniamo al dunque di prima no ragazzi sbaglia tutto entra senza grinta senza voglia giocare con Correa non con Lautaro infatti no il senso è che la vostra mania dei ruoli Correa è il pool dei peggiori che c'è in rosa che Arnauto vi accettare e mi devono giocare in Coppa eh no è l'unica soddisfazione no perché a campo aperto Correa attenzione alla Roma con su lei il sinistro telefonato dalla lunghissima distanza Sommer qui non può avere problemi a bloccare questo pallone dicevo a campo aperto sono i due dei cinque attaccanti dell'Inter più bravi ragazzi però il calcio può cambiare quanto volete no? possiamo fare tutte le le cose tattiche del mondo trafente io ieri sentivo le partite ora mai le seconde voci sono diventate degli allenatori mancati si si che sono ossessivi ecco si a volte fa stiglio la cosa è una partita lo diciamo anche è una narrazione si mette una seconda voce per aiutare la prima voce in una narrazione completarlo nei buchi nelle cose con una sensibilità diversa da quello che è il narratore ma poi tutto osservazioni tattiche non possiamo fare una tattica continua del primo al novembre perché poi alla fine succede una cosa adesso non lo voglio dire qui perché non è carino siamo ancora in fascia protetta fino alle 22 e 30 si produce un certo tipo di effetto allora a prescindere dove mettiamo le pedine io dico sempre che quando uno ha un grande giocatore anche se non è in grandissima forma lo tiene non è che poi lo fa lo sostituisce con uno a prescindere da dove lo metti che è dichiaratamente inferiore però Claudio non puoi avere le rose esattamente uguali e se tu hai la coppa in settimana hai la rosa lunga si dice vuoi giocare con lo Young Boys eh vabbè però è l'unica è l'unica giustifica il fatto che Giochi Corriere anche secondo me che in questa situazione di gioco se devo togliere l'autaro con una previsione di minutaggio ridotto può essere dovuto al fatto che comunque mi dà l'accordo beh ma anche se è all'ottanta settesimo e sedici secondi Roma in attacco vai meno di tre minuti più recupero con la Roma che sta schiacciando in questo momento l'Inter all'indietro che però è pronta a ripartire come abbiamo visto prima con Dunfis che è stato ancora una volta pericolosissimo due le occasioni dell'olandese con Svilar che per due volte ha detto no al 2 a 0 dell'Inter tenendo la Roma in corsa ora la Roma sviluppa il suo gioco passando da destra a sinistra provando a trovare un varco chiedendo soprattutto a Baldanzi e Sule di inventare qualcosa ora ancora Roma dalla sinistra con l'Inter che lascia solo Turam davanti attenzione palla per Pellegrini che la rimette in mezzo ma non c'è nessuno a seguire questa azione qua Dobby che era lontano e dicevo Correa largo a sinistra con unico riferimento ormai Turam davanti quindi una strana posizione la seconda punta dell'Inter che va quasi a raddoppiare a fare il difensore aggiunto a sinistra ad aiutare Di Marco ora c'è Juric che dà indicazioni ai suoi mancano due minuti qualcosa meno però poi ci sarà un recupero più o meno lungo e vedremo Massa che cosa deciderà Inter che con questo rinvio lungo prova a tenere la palla ma non ci riesce con Dunfris di testa che fa la sponda ma nella zona di nessuno ora però recupera la palla l'Inter con Barella e ora ancora lo stesso Nicolò che scambia con Correa e poi se la porta a spasso un po' la palla e la cede a Di Marco sulla sinistra un minuto e mezzo al termine ancora Di Marco e Barella bisogna fare un po' di possesso intelligente adesso si va da Bissec vediamo qui potrebbe tornare addirittura da De Vrij e Sommer infatti così fa Sommer che è fuori dall'area di rigore e cerca di perdere di perdere giocare un po' col cronometro perdere ancora un po' di tempo ma sbaglia in modo banale io però sono dell'idea nonostante le varie sostituzioni i vari aggiustamenti tattici rimane una difficoltà della Roma a fare gioco poi ho visto molti errori tecnici nell'ultimo passaggio sì assolutamente così beh la Roma non fa calcio cioè non c'è assolutamente un'idea di calcio dai dai fai qualcosa confusione pasticciona confusionaria questo mi sembra evidente ci sono due giocatori sopra il livello per la Roma uno è Svilar che è portiere straordinario l'altro è Dobbic non considero di bala perché diciamo un po' la ciliegina sulla torta poi oggi ha fatto il terzino bene che vada c'è un nome di attacco scusa vai ancora Roma con Sulei il giropalla per Ermoso in posizione altissima anche i difensori sono sulla tre quarti Roma che è tutta proiettata in avanti generosamente a provare di trovare un varco l'Inter sono due linee compatte un 5-5 tutti dietro attenzione alla Roma ora in area ci pensa però stavolta Pavar ma pensate spazza nel nulla non c'è nessuno c'è Dumfries che però arriva attenzione Indica è solo e ha un attimo di esitazione allora Dumfries si inserisce ora alza la testa vede Turam arriva anche da dietro Barella c'è un 3 contro 2 Barella carica il destro alto e poteva mettere fine alla sofferenza con 4 minuti di anticipo che saranno i minuti di recupero ma Barella spreca tutto con questo tiro alle stelle poteva anche servire Turam poteva fare quello che voleva almeno prendere la porta invece no calcia altissimo che peccato speriamo di non dover pagare questo errore di sufficienza di Barella che carichi il destro senza nessuno di fronte devi prendere la porta e tenere la basta abbiamo tempo fino alla politica per seguire la fine della partita vai ancora Roma tre minuti e mezzo in apnea per l'Inter che deve cercare di interrompere questo possesso giallorosso continuato con Pellegrini che ora subisce fallo Massa fischia la punizione sulla tre quarti anche più vicino all'area che al centro campo quindi ancora tutti a saltare tutti a fare mucchio in area di rigore Pellegrini qui aveva con una bella giravolta su Barella superato l'uomo e poi Barella stende il compagno di nazionale vai con la cronaca punizione al 91esimo entriamo in questo istante nel 92esimo quindi ancora tre minuti esatti di recupero sono stati assegnati quattro De Vrij che chiama i compagni a marcare bisogna fare molta attenzione sulle palle alte con ovviamente a partire da Dobic ma anche Celic Dicà sono diversi giocatori pericolosi Mancini ovviamente ora Baldanzi sul pallone potrebbe andare a mettere a scodellare questo pallone in aria hanno perso da tantissimo tempo per battere questa punizione Pellegrini Baldanzi 30 secondi se ne sono andati quindi due e mezzo al termine alla fine batte il capitano della Roma e lo batte pure basso per Ermoso Ermoso allarga ancora a destra per Sule che se la porta sul sinistro potrebbe crossare invece no attenzione però carica il sinistro Baldanzi respinto un modo molto singolare di sprecare un calcio di punizione questo della Roma allora la ripartenza di Pavard attenzione a Di Marco che deve tenere questa palla subire fallo lo subisce quindi punizione per l'Inter che può respirare ma davvero sprecata la palla della Roma questo è se ne ho discusso tante volte in tante squadre e a Guglielmo quando le squadre vanno in crisi mentale fanno queste cose a un minuto dalla fine anzi che battere una punizione in mezzo all'aria si mettono a giochicchiare sono stati spesso i giocatori quando fanno queste scelte vero o no? no no è vero è vero Claudio ma io vedo proprio una mancanza di idee in generale ma lì buttare la palla in mezzo non è un'idea buttare la palla in mezzo tra l'altro con un giocatore che secondo me è stato il migliore in campo che Dobbic dove di testa insomma questa sera hai Dobbic stai cercando di recuperare hai una punizione butti la palla nel mucchio ma poi hai giocatori forti di testa ti metti a fare tre passaggi per poi perde la palla rischiare un contropiede e c'è ancora Roma in avanti sbaglia l'ultimo tocco sempre l'ultimo tocco però no? sbaglia l'ultimo tocco e quindi l'Inter può gestire questo pallone vediamo se Somme tieni fino alla fine dai Borrelli vediamo se Somme riesce a tenere invece no decide di lanciare lungo su Dumfries che salta alto molto alto non commettendo fallo secondo massa quindi l'Inter può tenere palla e ora il lancio troppo sul portiere ma come si fa altra leggerezza dell'Inter che aveva ora Svilar che si avventura in dribbling sul pressing di Di Marco l'Inter che però è un po' scoperta Mkhitaryan che entra e scivolata ma non riesce a fermare la discesa di Celic che quindi crossa Di Marco è scivolata c'è Dumfries dall'altra parte che sta dando una grande mano anche nel gioco aereo ma ancora Roma ultimo minuto di recupero 40 secondi palla in mezzo molto lunga per Sule che la mette ancora in area di rigore via Mkhitaryan lontano lontanissimo ma palla a Juric vediamo se esce si esce allora l'allenatore della Roma che cerca di far battere velocemente Mancini questo fallo laterale ancora 25 secondi tutti in avanti i giocatori della Roma con Sule che ora punta l'aria chiudere Sule sul Mancino e il tiro Sommer respinge lateralmente meno male perché se la respinge di fronte ci sono tanti giocatori in maglia rossa e ora Dumfries lontano per Turam vediamo se Turam riesce a vincere questo duello ce la fa superare un primo uomo poi Indicalo ferma Massa dice fallosamente quindi ancora azione Roma scocca per ora il quarto minuto di recupero e finisce qui l'Inter spugna l'Olimpico 1-0 è bastato il gol di Lautaro al 60esimo ma soprattutto l'Inter finalmente torna a non prendere gol in una partita anche se ha patito due cambi per infortuni Cialanoglu e Acerbi contrattura per ora domani ne sapremo di più ma la cosa più importante è che l'Inter porta a casa i tre punti scavalca di nuovo la Juventus e scia al Napoli al secondo posto a 17 punti poi farai tutti i tuoi commenti prepara non so se li fai gli appendano della fine se li fai se li facciamo vediamo la classifica al netto diciamo della partita di domani perché la giornata insomma anche per correttezza si finisce domani con Verona Monza ma che non incide sulla parte alta della classifica dove Napoli insomma ha ragione chi fa una piccola fuga ma l'Inter sta lì dietro la Juventus sta lì dietro rimane vedete che però matematicamente si comincia un po' come dicevo nel gruppone un pochino perché il Milan poi dopo la Juve è a 14 ma avevamo detto che sarebbe stato comunque alla fine un duello Napoli-Inter e così sarà più o meno insomma sono curioso di vedere domenica cosa succede perché c'è Inter-Juve c'è Inter-Juve ma io voglio vedere la Juve quando ha finalmente i giocatori da mettere in campo perché secondo me guarda che l'Inter vista stasera cioè come valori cioè allora stasera ha vinto ha preso i tre punti però dobbiamo dimenticarci l'Inter dominante della scorsa stagione cioè ha vinto è stata una partita un po' ruffata Juric poi ha fatto cambi così prima illogici poi ha messo tutti gli attaccanti che aveva però l'Inter si è difesa a volte si è difesa anche male comunque l'Inter conferma quest'anno di non essere dominante e brillante come nella scorsa stagione io vedo anche la Juve che può entrare in questa corsa però scusa Paolo volevo dire due cose la prima è che anche l'Inter oggi ha dovuto arrangiare un po' il centrocampo perché tutte le squadre la Juve ha giocato senza i giocatori però dopo di che tu hai detto quello che vedo dopo di che se non c'è Svilar stasera finisce 3 a 0 l'Inter fa una gara dominante io ti sto dicendo che l'Inter secondo me stasera ha creato i presupposti per vincere la partita sembra non dominante beh cavolo dominante scusami ma non mi capisci allora non mi ascolti quando parlo ho detto ha preso i tre punti bene ma è la conferma io ho fatto un commento dicendo i meritati no quindi non c'è bisogno dell'ufficio stampa che dica meritati sembra sempre che l'Inter debba stravincere le partite giocando benissimo ma non è sembra un tema scusami per chi fa il giornalista ci sono dei temi giornalistici forse magari non è una cosa che a tutti torna come istinto siccome uno dei temi di quest'anno è l'Inter ne abbiamo sempre parlato che non è dominante come lo scorso anno che era la candidatissima a rivincere lo Scudetto però abbiamo fatto mille valutazioni squadre in transizione proprietà che la vuole ringiovanire in fretta il focus un po' sull'Europa dico questa partita bene i tre punti ma è la conferma che l'Inter non è più quella dello scorso anno in campionato poi magari vince la Champions cioè non c'è bisogno che mi arrivi l'ufficio stampa che mi farà bocchino è tutto molto chiaro secondo me stasera l'Inter vince 1 a 0 secondo me l'Inter vince 1 a 0 poteva vincere 3 a 0 benissimo ma sto parlando del gioco del dominio del gioco del dominio ma tu te la ricordi l'Inter allo scorso anno? sì me la ricordo però si riparte da 0 l'avete sempre detto tutte ripartono da 0 ma uno fa le valutazioni per quello che vede perché se no con i 6 ma non mandiamo la partita stasera rispetto ad esempio a Monza e Genova l'Inter secondo me ha giocato anche meglio sì ma non è ancora quell'Inter che cosa succede abbiamo un minuto prima della pubblicità piuttosto è la Roma la Roma ripetiamo la classifica rimane a 10 punti in questo momento quindi in una posizione un po' anomala rispetto ai recenti campionati della Roma e quindi insomma sta quasi per sdittare la famosa parte destra della classifica insomma che non è una cosa ideologica è già slittata è già slittata nella parte destra della classifica perché Roma e Empoli sono a pari punti ma l'Empoli ha vinto lo scontro diretto quindi la Roma è undicesima in questo momento poi c'è il Verona domani c'è il Verona domani che potrebbe scuolcare no capisci cioè questa veramente questa proprietà sta veramente ogni scelta che fa ah scusa Guglielmo scusa io credo che sia tutto perdonerete un pochino di commiserazione però sia tutto parametrato a quello che è il progetto societario questa è una società che inizia il 2024 con allenatore il signor José Mourinho tra l'altro so che non è esattamente Paolo un suo fan esatto e tu stiamo su sponde poste cioè Mourinho non è un fan di Bargigio non ho capito non ho capito ha detto che Mourinho non è un fan di Bargigio penso che no credo che Bargigio non sia fan di Mourinho poi non so se la cosa si fa ma lo stesso Bargigio si no assolutamente no no va bene oltretutto però tu passi da José Mourinho quindi può piacere o non piacere venivano anche fatte le pucci sul gioco della Roma e il gioco della Roma di Mourinho rispetto a quello di Juric stiamo parlando della Barsa di Guardiola vedete i miscredenti dell'autarismo sono stati puniti perché poi ha tolto le castagne dal fuoco proprio l'autar diceva ha fatto un tiro e ho capito 0-1 quel tiro è stato importantissimo ah addirittura adesso va negli app va negli app va negli app non l'avevi escluso non vedevi non vedevi l'ora non vedevi l'ora anche perché ha agganciato ripeto una leggenda come Nies c'è Bastoni che comunque fin quando è rimasto in campo una qualità superiore ecco alla media della partita quindi poi avrei messo anche Dunfriss però tre sono i posti e quindi Turam l'autare e Bastoni per me lo meritano di più 7-7-7 tutti e tre sette perché Turam sì bella partita forse il migliore di tutti però poi nel finale ha sprecato anche qualcosina nei down allora Darmian confermo poi anche l'ammunizione insomma primo tempo avevo detto bene in difesa male in avanti nel secondo prima di essere sostituito aveva sbagliato qualcosina anche dietro quindi 5-5 Barella in questo ruolo non mi è piaciuto perché doveva insomma lavorare più di testa che di gambe non proprio diciamo lucidissimo nelle scelte e Correa che quando è entrato a campo aperto era la sua partita perché poteva andare Correa non è andato mai si è fatto pure a monire e quindi è riuscito in 20 minuti a prendere un 5 un voto troppo alto gli da ma non è vero guarda che due o tre volte ha portato sulla parola questi sono pacelli sono up and down dei 90 minuti secondo me ci sono degli step da analizzare lui spara lui è forte con i deboli non è vero non è vero secondo me mezzo voti in più no Barella è uno forte Barella è vice capitano gli ho dato 5 mezzo Barella è uno forte gli ho dato 5 mezzo e Correa che viene spernacchiato da tutti lui l'ammazza è spernacchiato ma se entra non fa niente non fa però non dimentichiamoci che Dunfris è tutto benissimo in partita Dunfris mettiamo un attimo lui perché dicevo ci sono da fare degli step analitici allora queste sono pagine dei 90 minuti però se vai a vedere nello specifico io premerei Dunfris per esempio nel secondo tempo no no ma infatti negli ultimi 25 minuti è entrato bene e non sottovaluterei la prova di De Vrij contro Drobic perché secondo me ha fatto una grande partita Drobic è il terminale della Roma tutte le pallone vanno su di lui nel primo tempo hanno sofferto un pochettino nel secondo De Vrij ma perché non vedi la Iona no perché gli allenetti bifocali non riesce a vedere ti vedo difessivo stasera no nel senso beh parlo quando non mi accavallo agli altri ma per corrida ma non c'è problema no Lautaro beh capisco 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 Michele che lo abbia messo l'abbia rimesso nei top perché vero o meno lui ha vinto questa partita grazie al gol di Lautaro quindi già solo quello che ha fatto merita di esistere di sopra poi per carità possiamo giudicarlo sui 90 minuti sugli 80 70 minuti che ha giocato che non è stato sicuramente tra i migliori però chiaro che va premiato per il gol io ripeto Correa si va bene ha portato avanti la palla anche Mangulà nella Juve porta avanti la palla no Paolo anche Mangulà porta avanti la palla è un giocatore che ti è rimasto lì che non è partito che insomma l'era un giocatore Paolo ma l'unico che ti mette in campo può essere Inzaghi e ti mette in campo in una partita dove tu sei facilitato perché non è che puoi sbagliare dietro vai nell'uno contro uno c'è sempre tutto il campo libero puoi puntare l'area si ferma torna indietro timido si fa monire ma dai senza fare un processo al povero Correa facciamo un'analisi del valore di questa partita nel campionato poi torniamo a analizzare un po' il gioco delle grandi in questo campionato che rimane ve lo dico subito le 22.54 quasi di domenica sostanzialmente deludente partite vinte di poco e con poco ma senza aver visto cose che ci possano dominanti o meno che ci possano dire almeno nel gioco questa è la padrona del campionato la conferma possiamo dire nei numeri nella matematica ma almeno nel gioco questo weekend non ci ha detto ancora qual è la più in forma qual è la più in forte qual è quella che davvero c'ha qualcosa più degli altri secondo me al netto degli infortuni degli errori se non davano un rigore a Napoli Napoli non era staccato così Marcello se nel gioco è vero non si è dimostrata neanche l'Inter oggi ha fatto bene a tratti a sprazzi era una partita molto forte si si era una partita molto forte poi dopo con l'uscita di Cialanogo abbiamo detto sicuramente ha perso geometrie però è un risultato importante perché riduce il gap su Napoli cioè quindi conferma il binomio lì davanti sta in scia poi ha preso tre punti a Roma e bene o male tu invece hai fatto tre punti con tutto quello che di positivo ci può dire con l'Empoli ecco sì sì assolutamente e poi riduce diciamo rimette in una situazione classifica la Roma che comunque a 13 sarebbe attaccata a un treno sarebbe stata sicuramente più vicina al Milan che oggi definiamo insomma le prime quattro come situazione di vertice e invece la piazza metà classifica con la possibilità addirittura di essere superata dal Verona quindi diciamo a livello di risultato questa partita dà due indicazioni che Inter e Napoli e Juve io aggiungo probabilmente sono le candidate a giocarsi questo campionato e che la Roma oggettivamente ha un valore ha una dimensione che in questo momento rispecchia forse le strategie societarie tanto deludenti quanto sul campo che io nel primo tempo ero stato più come dire ottimista nei confronti della Roma però poi nel secondo mi sono allineato a Guglielmo che tu hai detto che io mi sono rattristito io ho visto per tutto si l'ho capito ho visto per tutto il secondo tempo nel monitor Guglielmo era tristissimo non gli ho visto fare un sorriso ma neanche stiracchiato perché effettivamente l'ho capito e l'ho capito perché nel secondo tempo mi ha veramente molto deluso la Roma è vero è vero che a un certo punto ha preso in mano la partita l'Inter si è difesa ha cercato ma l'ha fatto con una tale confusione senza un'idea come diceva lui senza un minimo di idea una bozza di strategia che vuol dire questa partita per il futuro della Roma davvero si riparla di una sostituzione di Juric si va avanti così perché insomma comunque adesso il problema c'è i figli che hanno fatto la scelta il problema c'è poi non sarà solo colpa di Juric no? No credo che oggi sia evidente c'è la portata di questa sconfitta limitata nelle misure ma evidente nella dinamica credo che debba far riflettere poi vediamo arriva una trasferta di Firenze che mi sembra tutt'altro che abbordabile vediamo quali saranno le decisioni dopo la partita con la Fiorentina io credo che la Roma è mediamente una squadra di come dire mi verrebbe da dire scarsa ma sarei preso da un'onda emotiva che non merita il contesto è una squadra che non merita i primi posti in classifica per valore medio poi ha delle eccellenze in questo valore medio lo dico oggi mentre vengo attaccato da una zanzara che probabilmente non sa che è ottobre la zanzara sono i Friedkin te l'hanno mandato è più che possibile è più che possibile una delle eccellenze della Roma ma non è stato quasi mai chiamato in causa è Dobbic Dobbic ve lo metto tra i primi tre numeri nove del campionato è un giocatore fenomenale se non gli arriva la palla questo poveraccio non può assolutamente determinare il portiere e l'attaccante che già non è una cosa da poco due fuori classe e il resto boh però nel resto no però la rosa no però scusa finisco partito la prova però nel resto non è ci sono poi dei nomi così da buttare via al di là di tutti i suoi problemi gente come Di Bala hanno speso 100 milioni quasi 100 milioni sui problemi abbiamo comprato Erboso poi non fanno giocare Ulmer ma sono tutti nomignoli poi abbiamo comunque c'è questo sull'Eronforte Valdanzi è stato preso come una nuova prospettiva con E con E che viene insomma gioca nella francia se non sbaglio gioca nella nazionale francese gioca nel centro campo della nazionale francese non dell'ultima nazionale ma con E con E è un giocatore molto forte si però sto facendo scusa amico Guglielmo sto facendo un elenco di nomi per dire onesso è proprio una somma di blocchi onestamente no assolutamente hanno speso adesso io questo Lefe non so se sarà poi una rivelazione o no però Pisilli è considerato uno dei giovani promettenti anche per Spalletti cioè Pisilli Baldanzi sulle comunque Di Bala Pellegrini poi anche Cristante adesso sono proprio giocatori insomma cioè quando tu spendi 100 milioni sul mercato che comunque il conto è presto fatto no 38 Dobvic 30 sulle 23 Lefe cioè sei già 80 poi aggiungi altra roba no arrivi a 100 cioè o tu dichiari ufficialmente che Ghisolfio chi ha fatto il mercato della Roma non capisce nulla oppure e secondo me non è proprio così perché i giocatori in assoluto sono buoni Dobvic capocannoniere della Liga chiudo dicendo secondo me se però smonti un progetto tattico fatto con De Rossi e prendi uno che fa un calcio diametralmente opposto quello fa calcio di palleggio no e di possesso questo fa un calcio incasinato è ovvio che dopo hai quel risultato e in attesa sempre della conferenza degli allenatori se riusciamo a darci risultati li diamo per chi dovesse sintonizzarsi ora io vengo dalla vecchia scuola che un'ora che era a casa ha bisogno di sapere un po' tutto insomma ecco vedete ripeto ricominciamo da sabato i due paesi di Como Parma di Giorno Bologna la soffetta vittorio del Mila con l'Udinese della Juventus con la Lazio oggi nella partita di pranzo il Napoli ha vinto Empoli il Fiorentino ha vinto con un punteggio da Sinner a Lecce 6 a 0 l'Atalanta ha vinto 2 a 0 Cagliari di Torino bella partita con tanti gol 3 a 2 poi abbiamo commentato e raccontato stasera in diretta la vittoria dell'Inter all'Olimpico con la Roma quindi ti sei divertito con Cagliari di Torino ti sei divertito ho visto i ultimi 10 minuti e poi ho visto gli highlights erano belli divertenti come dicevi che il campionato non ti diverte stasera di Cagliari di Torino io rispetto anche di Cagliari e di Torino insomma qualche volta il campionato non mi diverte però insomma quando ci sono delle belle partite lo dico fa bene al campionato tra parentesi insomma però mi ha interrotto mentre sta a far vedere la Cassini c'è stato un sabotaggio del conduttore l'abbiamo fatto già vedere 10 ore vabbè 10 ore però rivediamo tu sei i vecchi teorici dell'università Bergini già avviano ogni tanto le mie lezioni in formazione a cascata vuol dire che quello che c'è stato prima siccome non posso registrare tutti non l'hanno sentito e poi c'è sempre l'alieno di Flaiano che scende sulla terra e dice oh ma com'è su qual è la classifica e noi alle 22.05 ieri andiamo Napoli in testa l'Inter rimane seconda a due punti la Juve insomma anche Tiene che ha vinto e il Mila vincendo insomma sta là mentre invece sprofonda la Roma e poi insomma il resto l'abbiamo già commentato Borrelli significato di questa vittoria per l'Inter in attesa degli allenatori come premessa una piccola curiosità l'anno scorso all'ottava il Mila vinceva col Genoa all'ultimo minuto era primo e l'Inter seconda a due punti e si andava alla sosta quindi però con due punti in meno sia la prima che la seconda allora per l'Inter oggi c'è da considerare insomma le difficoltà che sono arrivate durante la partita perché come ha messo anche Iuri l'Inter migliore ma l'avete appena detto anche voi è stata nell'approccio e questo in tante è una cosa importante perché le cose che io volevo vedere soprattutto dei miglioramenti rispetto alle altre partite era la testa giusta e la fase difensiva su tutti e due i fronti ci sono state delle risposte poi è vero che l'Inter come ha detto Marco ha detto Paolo ha detto tutti non ha avuto continuità all'interno della prestazione però dobbiamo sempre tener conto che tanti arrivano dalle nazionali si gioca una partita dietro l'altra Cialanoglu ha giocato due partite 100 minuti con la Turchia e l'ha pagata oggi Bastoni è uscito prima perché lo deve gestire Lautaro invece sta crescendo di condizione non ha fatto la preparazione quindi all'interno di tutta una serie di giocatori che hanno degli stati di forma da mettere in linea da allineare ci sono una serie di difficoltà vai a giocare a Roma non è una partita facile voi Juric lo state dipingendo come il male del pianeta Juric finora non aveva perso in campionato aveva fatto due vittorie pareggiando una partita dove gli hanno tolto un rigore grande quando una casa non puoi guardare il risultato guardare Venezia guarda Venezia guarda Monza 3 a 0 all'Udinese prestazione buona devi guardare prestazioni 3 a 0 all'Udinese prestazione buona con Venezia aveva concesso un po' ma poi comunque Venezia è stata una cosa non è guardabile tifosi della Roma in bestialiti dal gioco da Juric però Juric va bene così allora tu parli dei tifosi della Roma solo quando ti conviene allora i tifosi della Roma sanano Mourinho ma è sotto gli organi di tutti ma è il solito discorso che ogni tanto si ripropone allora in Zaghi ha il quarto anno Juric ha la quarta partita non puoi pensare che ha un'organizzazione di gioco perfetta ho capito però cioè chi fa l'opinionista dovrebbe andare al di là del risultato infatti io vado al di là del risultato perché se uno se no prendi uno che passa per Stata gli fai vedere le partite della Roma ho capito ma non puoi dire la Roma è decima per colpa di Juric Juric ha fatto quattro partite perché c'entra ma gioca male gioca male ma gioca male è stata una partita dove l'Inter non ha fase offensiva è arruffata non c'è un'identità se tu vedevi la Roma di De Rossi palleggiava arrivava in porta col palleggio come gioca la Roma l'hai detto anche tu ha un'altra idea ho capito ma che idea è che idea è cioè tu se tu fai l'Inter ha vinto 3 a 0 la partita è stata una partita aperta fino all'ultimo io ti ho detto che non mi fisso come te sul risultato vado oltre sto parlando della prestazione a chi ci ascolta devo dare delle indicazioni per il futuro però Paolo facciamo il dialogo la lascia perdere le volte quando si parla di assedio bisogna essere anche staccati come lo si fa ma l'Inter ha passeggiato allora voi dite quando parlate di Inter non dite che la Roma ha fatto la sua partita dite che l'Inter fa male la Roma fa malissimo è uno che gioca male contro uno che gioca malissimo invece la squadra si ha nulla l'Inter no 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 Michele avete detto che l'Inter è una fase più fa la Roma ha fatto una buona partita di intensità a livello di costruzione di gioco oggettivamente non si può chiamare assalto finale ma l'Inter era chiusa in dieci si ma chi se ne frega ma anche per scelta Michele ma non l'ha mai cacciato in porta la Roma alla fine sto dicendo che se tu sei chiuso in dieci e sei l'Inter non è facile scardinare ma magari è una scelta anche in quel momento lì tu adesso ti vai travolgere una cosa emotiva che è stato lì ma l'Inter però vedi perché non ci sentiamo io sto parlando della Roma Marco sto dicendo che se la Roma affronta una squadra che si chiude 5-5 due linee compatte dietro non è facile per nessuno che parla in armeno però è certo così puoi traducere è certo no l'Italia è stato sconso punto rionfo prego Admaio ciao Simone voglio sapere il valore che tu dai a una vittoria ottenuta in questo modo con una squadra che in qualche modo devi rimodellare con quei due cambi il valore dell'avversario rientro dopo la sosta che valore specifico ha in questo momento nella stagione dell'Inter una vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore con delle difficoltà insomma dopo 25-28 minuti avevo finito avevo usato due slot quindi mi rimaneva solo uno slot contro una squadra di qualità però i ragazzi sono stati sono stati bravissimi insomma ne avevamo parlato questa gli ultimi tre giorni quando c'erano tutti che avevamo bisogno insomma in trasferta di ricominciare avevamo vinto l'ultima Udine ma sappiamo che l'anno scorso in trasferta avevamo fatto cose grandissime che in questo momento ci stavano mancando noi dobbiamo continuare a lavorare cercare di di recuperare i giocatori la quarta vittoria in fila ma adesso abbiamo vinto siamo contenti ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi si sono aiutati probabilmente dovevamo fare il secondo gol però il secondo gol a volte bisogna anche considerare che ci sono gli avversari abbiamo trovato insomma svilare sulle due occasioni di Danfris è stato bravissimo sulla prima di Turam che è la prima ho rivisto la prima di Turam il primo tempo passa in mezzo le gambe era coperto è stato bravo molto bravo a rispingerle poi insomma si sono aiutati concedendo non tanto a una squadra secondo me di grande qualità dove anche per tutte le altre che verranno qui all'Olimpico a giocare non sarà affatto semplice ci sono sempre delle cose che tu con il tuo lavoro stai cercando di migliorare pensi per l'attenzione la cattiveria che ha avuto la squadra che questa insieme a quella dell'Etihad con il City sia stata a livello di organizzazione difensiva la migliore partita dell'anno dell'Inter sì soprattutto insomma alla fine noi eravamo un po' stanchi loro mettono dentro giocatori di qualità Sule Baldanzi Lefe quindi hanno messo giocatori che ti potevano creare sempre dei problemi a quel punto insomma anche noi ci siamo abbassati un po' di più Corea ci ha dato una mano dalla parte di Di Marco perché non sapevo se inserire Carlos Augusto gli ultimi due o tre giorni non aveva lavorato a pieno regime perché era un po' indolenzito quindi chiaramente Carlos mi aveva dato ampia disponibilità però insomma avevo perso già due giocatori fra 48 ore saremo di nuovo in campo a quel punto perché anche Di Marco Federico aveva speso tanto Bastoni aveva speso tanto perché il primo tempo andava da quel lato con Di Bala ho preferito tenere Di Marco e togliere Bastoni la sera ecco Simone sono vittorie che pesano più di altre nel corso di un campionato pensi che questa sia una di quelle anche per la ritrovata solidità della squadra e poi ti chiedo se sei preoccupato per il centrocampo nei mezzo fuori Beh quello senz'altro Insomma Aslani e Zerischi adesso valuteremo stamattina hanno fatto un qualcosina su Adapiano chiaramente saranno da da valutare Ziello si porta a quel problema che ha avuto in nazionale Aslani ha avuto un contrasto giovedì anzi venerdì che aveva fatto tra l'altro due giorni a rientro della nazionale molto buone e adesso sarà da valutare anche lui chiaramente abbiamo un gruppo di lavoro importante stanno lavorando non sono venuti qua con noi a Roma speriamo di riuscirli a portare a Berna però non ci sono certezze ancora Grazie a te dello sport Ciao Simone Ciao E invece su Ciala e Acerbi cosa ci puoi dire soprattutto per Berna e poi per la Juve Cialanoglu non era postissimo non era postissimo avevo probabilmente avessi avuto Aslani avrei fatto probabilmente scelte diverse però il ragazzo ieri aveva fatto un discreto nellamento anche se sentiva un po' un adduttore un po' indurito però il riscaldamento non è peggiorato quindi potrebbe essere anche un bel affaticamento per Berna chiaramente bisogna fare delle valutazioni però poi ce lo diranno i medici domani Acerbi ha sentito il flessore indurirsi lui chiaramente le sue impressioni è un giocatore d'esperienza esperto mi ha detto che secondo lui si è salvato in tempo però sai prima di parlare bisogna sempre avere delle diagnosi le ultime due aree calciomarcato ciao uno dei temi dopo il pareggio di Genova di Monza era quello che l'Inter potesse avere meno fame in campionato della scorsa stagione bla bla questa sera mi pare che avete dato la risposta che la fame forse è quasi ancora di più dello scorso anno e se questo può essere un segnale per le competitor tipo Napoli Juventus che stanno tentando loro di fare la voce grossa ma quello insomma lo dirà lo dirà il tempo io quello che posso dire che vedo lavorare la mia squadra quotidianamente lavorano molto seriamente insomma sono ragazzi che hanno vinto tanto che vogliono vincere che vogliono vincere ancora sapendo tutte le volte che ci sono degli avversari delle squadre che si sono rinforzate hanno investito tanto e che tutte quante vorranno vorranno vincere più partite e titoli come l'Inter quindi c'è tantissima concorrenza ma noi ogni giorno che siamo da piano cerchiamo di lavorare in migliore di modi per cercare di migliorarci sempre prego buonasera fatto salvo che non ha mai smesso di essere orgoglioso della sua Inter si può dire che questa sera lo è un po' di più perché nel momento più difficile la partita sera messa in salita gli infortuni l'Inter è tornata a non subire gol e guarda caso è tornata a farlo però in un momento complicatissimo forse perché vi sapete compattare quando sentite la difficoltà era successo anche contro il Sidi un avversario probabilmente più forte in queste due occasioni l'Inter non subisce gol beh assolutamente insomma stasera sono sono molto molto soddisfatto i ragazzi devono continuare a lavorare così non si sono innervositi perché chiaramente il primo tempo potevano innervosirsi per come stava andando la partita invece sono rimasti lucidi di testa sono rimasti in partita a fine primo tempo abbiamo analizzato quello che era andato bene il primo tempo quello dove dovevamo fare meglio e quindi abbiamo usato molta molto intelligenza e sono molto molto soddisfatto grazie grazie questo torniamo in studio a Rinzaki Borrelli a te il primo momento allora adesso il momento di difficoltà principale vuoi sentire Mkhitary un secondo sentiamo un secondo insieme se dice qualcosa e poi finiamo ti do la parola è quasi Mkhitary ha che parla sentiamo visto un po' come avete esultato festeggiato sia su un gol che a fine partita hai la sensazione anche tu che questa sia una partita di passaggio cioè una vittoria dal peso specifico importante in questa fase della stagione se avete avuto questa sensazione per come l'avete ottenuta ovviamente era una partita importantissima a vincere perché ci aspettano delle partite più dure più difficili era un segnale buono dalla parte nostra perché dopo la sostanza internazionale volevamo far vedere che siamo pronti a continuare il percorso che abbiamo iniziato non era una partita facile però abbiamo lavorato alla grande e abbiamo mostrato che meritavano di vincere questa partita cosa state ritrovando che vi è un po' mancato in questo inizio in cui qualche volta avete perso l'equilibrio incassato qualche gol di troppo su cosa state in particolare lavorando e cosa avete ritrovato questa sera di quelle certezze lì no? Si lavora su tutti gli aspetti perché non c'è un aspetto che per dire che lavoriamo di più o lavoriamo di meno secondo me è importante di continuare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e anche continuare questo anno perché tutti si aspettano una grande inter che non è facile a ripetersi però comunque stiamo facendo tutto per migliorare fare le cose che sappiamo fare fuoriere della sera ma è anche banale beh a questo punto hai in più Bargigia 2 la vendetta ma ne abbiamo già parlato tante volte io non sono d'accordo con il discorso della fase di transizione perché comunque l'Inter gioca per V prima che parli ti faccio una cosa io non ho sentito le domande come dici tu dai broadcast ho visto solo le conferenze mi sembra che ci hanno dato a chiedere qualcosa a questi allenatori mi sembra tutto molto un po' ah sicuramente sicuramente di stimo insomma non è una che io non voglio tutte cose molto molto servite su un piatto d'argento vai allora per quanto riguarda invece la prospettiva quindi già le prossime due partite mercoledì in Champions e poi con la Juventus la nota di stasera la nota negativa è che bisogna valutare questi due stop perché c'è la Noglu in un reparto in cui anche altri due hanno problemini quindi iniziano ad essere tre centrocampisti su sei se le scelte sono molto contate quindi però dobbiamo aspettare domani e dopo domani è un po' qua calendario dell'Inter mentre Vardi insomma mercoledì gioca non mercoledì non è una partita proibitiva però se poi inizia a non poter ruotare soprattutto nello stesso reparto significa che gli stessi devono giocare a Roma e in Svizzera e con la Juventus e poi con l'Empoli comunque non c'è la settimana piena quindi c'è il turno infrasettimanale anche lo che ricordiamo che oramai si gioca sempre si gioca sempre in Champions poi c'è il turno infrasettimanale il problema è che quando c'è la sosta poi si rigioca in Champions quando c'è la sosta i giocatori delle squadre top giocano ancora anzi aggiungono a due partite ravvicinate il viaggio spesso intercontinentale più cambi d'aereo quindi purtroppo questo si paga abbiamo visto anche oggi non so il Manchester City ha vinto nel recupero col Wolverhampton l'Arsenal ha perso col Barma anche le big all'estero non è che vincono tutte le partite sempre però oggi ripeto le due note invece negative l'ho detto le positive sono l'approccio quindi la testa bisognerà rivalutarla anche con le squadre medio piccole però oggi c'è stata l'Inter era collegata la spina era collegata e l'altra la voglia di non prendere gol anche chiudendosi però sottolinea però sottolinea anche il giornalista che nel momento in cui l'Inter abbassa il baricentro tanto come col City trova questa compattezza quindi cosa vuol dire che se deve fare la partita questa compattezza non ce l'ha se facendo una domanda e quando è andata davanti con squadre anche più piccole quindi ha pensato di poter fare il suo calcio secondo me anche con un po' di presunzione ha mancato nella lettura l'ha detto Sommer anche l'altro ieri delle preventive cioè lasciavano un po' troppo spazio e non pensavano al pericolo cosa che invece l'anno scorso erano sempre concentrati